Nell'ultimo consiglio comunale a San Giovanni Valdarno l'opposizione con il consigliere di Cresce San Giovanni Mauro Marziali ha presentato un'interrogazione riguardante lo stato di salute delle strutture scolastiche comunali. Una situazione che vede molte criticità secondo l'opposizione e che necessita di interventi drastici e immediati. Infiltrazioni della Rodari che ormai è un anno e mezzo che questa scuola ha infiltrazioni dal tetto che non si riesce a risolvere. Un quadro che vanno dai doppi vetri e forse sono inesistenti su tantissime scuole ma quello che preoccupa è anche la mancanza di vetri antinfondamento cioè vetro semplice nella scuola primaria dell'infanzia che francamente per noi dà periolosità alla scuola. E' stato chiesto per quanto riguarda l'asilo nido comunale di Via Milano il Marzocchino come mai è stato sgomberato un'aula e è stata messa in sicurezza una sicurezza fittizia fatta con suppelletti, limobili e sedie per quanto riguarda un bel pezzo dell'asilo. C'è stato risposto e lo sospettavamo che ci sono problemi strutturali per quanto riguarda un'aula. Quello che contestiamo è questo abborracciamento fatto di materiali per mettere in sicurezza un luogo fattono materiali consoni in cui non viene spiegato minimamente sia genitori e chi vive l'asilo cosa sta succedendo in quel plesso. L'assessore Corsi risponde all'opposizione affermando che il comune ha già speso centinaia di migliaia di euro in quattro anni per la manutenzione delle scuole e che in arrivo c'è la progettazione del nuovo plesso scolastico delle Don Milani. Adesso abbiamo un'esigenza specifica sulla Don Milani nella quale abbiamo alcune infiltrazioni di acqua che troveranno una soluzione nel momento in cui chiaramente il tempo migliorerà perché lì l'intervento non è più una questione di manutenzione ordinaria che possiamo gestire attraverso la stessura di una guaina liquida e quindi la risoluzione di piccoli problemi riguardanti infiltrazioni ma lì dovrà essere rifatto completamente il plesso. Stiamo facendo il progetto, attendiamo la bella stagione o fine anno scolastico o durante il periodo estivo di pausa tra quest'anno e il prossimo anno scolastico. Corsi ha parlato anche delle medie Masaccio, lì un grave problema al riscaldamento accostretto alla sostituzione delle tubature e alla revisione completa dell'impianto intervento che si è concluso facendo tornare il riscaldamento a regime.